Io ho 200.000 euro di utile. Se io questi 200.000 euro di utile lo lascio lì, io ci pago circa il 30% di imposte. Però i soldi non sono miei, i soldi sono della società. Se io li prendo per me, come compenso per le mie attività amministrativa o come utili, come risultato dell'esercizio, io ci pago di nuovo altre imposte. E quindi la somma di una e l'altra arriva non lontano dal 60-65% sul profitto. Per evitare questo è importante fare dei meccanismi di pianificazione fiscale, finalizzati a diminuire l'utile, a battere l'utile e a prendere delle risorse della società prima di determinare i risultati e quindi per alleggere il carico fiscale.